Allora, perché un ritiro sulle donne? È un ritiro che avevo intenzione di fare già da parecchio tempo e diciamo che questo discorso l'avevo già fatto parecchi anni fa durante un ritiro in cui ero assistente di Bante Sugiva Bante Sugiva è ancora, è stato qui da noi per circa 22 anni, era un po' la guida del centro e mi ricordo che in quell'occasione Bante mi disse, vabbè preparati questo discorso io gli ho detto, Bante che discorso devo fare? E mi fa, fai questo sulle donne, parla della discriminazione sulle donne che a me è sembrato abbastanza, mi è suonato un po' come Bante, tradizione abbastanza monaco da tantissimi anni eccetera e niente, insomma, mi sono un po', in quell'occasione mi sono un po' arrabbattata, devo dire la verità nel senso che, insomma, era un argomento non proprio canonico e quindi vi parlo di una decina di anni fa quindi ancora non ero così interessata a questo argomento anche se comunque dentro di me è rimasta sempre un'anima, chiamiamola femminista nel senso che fin da giovane sono sempre partecipato negli anni 70 così ero abbastanza, non dico agguerrita però, insomma, facevo parte dei gruppi femministi andavo alle manifestazioni e quindi questa, diciamo, questa parte di me rimane sempre lì un po' latente e quindi, insomma, mi sono un po' interessata, diciamo, Bante è stato quello che mi ha dato un po' il là mi ha buttato un po' il seme e quindi ho detto, vabbè, ho fatto questa proposta a Pian dei Ciliegi che ha accettato volentieri di fare questo ritiro allora ci tengo a dire una cosa la mia intenzione nei discorsi che farò stasera e le prossime due sere la mia intenzione non è quella di alimentare una, come dire, una sorta di contrapposizione maschile e femminile lungi da me questo c'è sicuramente questa problematica, no? del fatto che le donne sono sempre state viste sempre un po' in maniera inferiore rispetto all'uomo sia nella nostra società e lo vediamo molto chiaramente rispetto al lavoro, rispetto alla famiglia, rispetto a tantissimo, a tutto praticamente però non pensavo che anche all'interno delle varie religioni ci fosse questa grossa discriminazione quindi la mia intenzione non è comunque di, appunto, di creare una rivalità, chiamiamolo una contrapposizione tra maschile e femminile e quindi ho impostato questo ritiro più che altro sulla conoscenza cioè sul farvi conoscere quante donne illuminate ci sono che purtroppo nella tradizione buddista non è molto valorizzata ci sono solo determinati testi che parlano, appunto, delle realizzazioni delle donne e ne parleremo diffusamente domani sera che si trova all'interno del canone pali che sono le terigata e domani sera vi porterò il testo, ve lo lascerò qui anche a disposizione così lo potrete vedere e poi vi ho pensato, appunto, di dividere gli argomenti un po' per varie tradizioni perché voi, come sapete, nel buddismo ci sono diverse tradizioni la tradizione teravada che è quella che segue, appunto, Pian dei Ciliegi vi passano a teravada e la tradizione tibetana lo zen e mi sono fermata a questi tre perché poi ci sono moltissime altre, diciamo, rivoli altre scuole che si possono trovare nel buddismo e proprio per questo voglio partire con questo discorso di questa sera proprio dall'esperienza di una donna una monaca Tenzin Palmo e vi ho portato il suo libro ve lo lascio qui a disposizione Tenzin Palmo ha fatto un'esperienza straordinaria come donna è stata a dodici anni in una grotta sulle montagne dell'Himalaya a più di 4.000 metri dodici anni da sola in una grotta minuscola piccolissima potete vedere le foto sul libro dove ha praticato per dodici anni perché il suo obiettivo era quello di raggiungere l'illuminazione ed è un personaggio straordinario se leggerete il libro ve ne renderete conto è ancora vivente se volete potete su Instagram lei tutti i giorni pubblica dei suoi pensieri sempre in riferimento alla pratica alla meditazione e io l'ho incontrata l'ho conosciuta moltissimi anni fa perché ha fondato un monastero in India per le donne non solo per le monache ma anche per chi vuole intraprendere il percorso spirituale lei è della tradizione tibetana una donna straordinaria cioè bellissima con uno sguardo veramente profondo allegra molto con un cuore grandissimo e all'epoca faceva un giro per tutta l'Europa per raccogliere i fondi perché aveva già iniziato a costruire il monastero tra l'altro molto bello e cercava appunto era la ricerca di fondi per continuare a completare la costruzione del monastero adesso ormai il monastero è avviato e quindi può ospitare monache oppure altre persone che vogliono appunto praticare quindi io scusate leggo perché purtroppo ho una memoria un po' quindi scusate non riesco ad andare molto a braccio allora l'esperienza di Tenzin Palmo è straordinaria non solo perché si tratta di una donna europea che è diventata monaca buddista e che ha vissuto 12 anni in una grotta dell'Himalaya per raggiungere l'illuminazione ma anche perché nel suo percorso spirituale Tenzin non ha avuto esempi di donne che similmente avessero compiuto la stessa impresa Tenzin Palmo nel suo racconto spiega quanta fatica e frustrazione le siano costate intraprendere un cammino nel quale essendo donna è partita svantaggiata sola in un mondo totalmente maschile e per certi versi addirittura misogino lei stessa a un certo punto si chiede cosa avesse mai di tanto straordinario un corpo maschile e domanda a un lama di altissimo rango se avere una forma femminile potesse portare a qualche vantaggio il lama risponde che in effetti avere un corpo femminile non porta alcun vantaggio e a quel punto Tenzin Palmo pensa che il vantaggio di essere donna potrebbe essere quello di non avere un ego maschile nel percorso spirituale uno dei punti chiave è in effetti proprio il problema dell'insussistenza dell'io strada facendo Tenzin Palmo si convince sempre di più di non voler rinascere in un corpo maschile e prega ardentemente affinché in futuro il suo flusso di coscienza possa riprendere una forma transitoria femminile piuttosto che maschile è infatti consapevole dello squilibrio di potere sul fronte spirituale attualmente i maestri spirituali donna scarseggiano gravemente quindi in questo momento essere una femmina è più utile e però grazie alla sua lunga permanenza nella grotta che Tenzin Palmo arriva ad alcune conclusioni sulle debolezze e sui punti di forza di una donna e lei dice per me la caratteristica distintiva di una donna è prima di tutto la perspicacia la lucidità sa perforare ogni barriera specialmente le calcificazioni intellettuali è molto acuta e arriva al punto la donna capisce al volo non le interessano le speculazioni intellettuali che di solito trova aride fredde e molto poco accattivanti per le donne quella è la via più lunga per arrivare alla meta preferiscono passare dalla porta di servizio ciò significa che le donne sono più pratiche nell'affrontare le cose meno astratte e idealiste degli uomini le donne vogliono sapere che cosa posso fare non si lasciano incantare da concetti e teorie vogliono essere in grado di toccare e sentire allo stesso tempo le donne possiedono una grande sollecitazione tenerezza gentilezza tendono a penetrare nei sentimenti più a fondo degli uomini e questo rende loro più facile sviluppare la bodhicitta l'amorevole gentilezza la benevolenza nelle donne la gentilezza affettuosa è innata per via della maternità una madre pronta a morire per suo figlio lo stesso impulso può essere sviluppato nei confronti di tutte le creature è ancora una volta questione di sentimenti non di intelletto e queste qualità non sono soltanto utili sono essenziali è chiaro che la donna ha anche delle debolezze l'ostacolo più insidioso per la donna nel cammino spirituale è sempre stato il ciclo mestruale e i cicli ormonali in generale era questo che ha sempre reso le donne impure agli occhi dei monaci e quindi non idone agli incarichi spirituali superiori in molte parti del mondo la donna mestruata non può infatti accedere ai luoghi sacri come per esempio i templi questo soprattutto in India nell'induismo quando una donna è mestruata non può neanche andare a cambiare i fiori all'altare non può avvicinarsi no? su un piano più serio e profondo si è sempre ritenuto che il ciclo mestruale disturbasse la meditazione di qualsiasi praticante scrupolosa poiché comportava irritabilità irrazionalità dolore tensione premestruale tutti fattori che si pensava turbassero la concentrazione e la tranquillità intellettuale quindi le mestruazioni diventavano così uno dei principali ostacoli al cammino spirituale femminile o la menopausa siano veri intralci ma solo pregiudizi inutili che ingigantiscono la questione Tenzin Palmo addirittura afferma di aver notato che spesso gli uomini sono più instabili e lunatici delle donne tutti gli esseri umani subiscono cambiamenti nell'umore ma ciò non significa che debbano per forza indugiarvi Tenzin riferisce che un lama un giorno le disse che la donna ha una mente volubile essa oscille in continuazione rende più difficile ottenere la regolarità nella meditazione ma aggiunse anche che quando una donna impara a controllare la propria energia procede nella pratica a grande velocità molto più di un uomo perché possiede una scorta di energia che non è stata consumata nella società occidentale per un uomo è più facile rinunciare a tutto per l'uomo e la donna l'addestramento è diverso l'uomo deve imparare a controllare la propria sessualità la donna deve superare l'attaccamento agli oggetti mondani quindi per le donne la via è quella del distacco il risveglio porterà la donna al distacco completo il nostro corpo è fatto per avere figli ed è per questo che ricerchiamo istintivamente la sicurezza e le comodità l'agio e l'amore l'obiettivo è amare il mondo intero come amiamo i figli Tenzi in palmo del canto suo è convinta che le donne rappresentino una meta per l'umanità perciò le donne che avranno sviluppato una pratica efficace e una comprensione superiore analizzeranno necessariamente innalzeranno scusate necessariamente il livello della razza umana visto che sono tante le donne ok questa parte qui la salto essere potenti è nella natura femminile il problema è che gli uomini hanno paura delle donne potenti si sentono un po' minacciati il Dalai Lama ha recentemente dichiarato che anche le donne possono diventare un Buddha non esiste distinzione tra maschile e femminile l'illuminazione si può raggiungere con la stessa facilità in un corpo di donna come quello di un uomo e anche un altro Lama molto importante conferma che a prescindere dal fatto di essere uomo o donna se si ha fede fiducia e rigore se si ha compassione e saggezza si può essere illuminati la ragione di questa totale uguaglianza è la natura intrinseca della mente che non è né maschile né femminile non esiste una natura intrinseca mentale che sia migliore di un'altra a livello supremo la natura vuota limpida e priva di ostacoli della mente non presenta caratteristiche limitanti come la mascolinità o la femminilità la superiorità o l'inferiorità su un piano relativo ci sono delle differenze compreso il modo in cui l'incarnazione fisica si struttura a livello di canali e centri di energia nella struttura psicofisica di un uomo c'è più forza più energia diretta e concentrata mentre in quella di una donna c'è più spazio e questo significa saggezza queste differenze relative andrebbero sempre interpretate nella natura primaria della mente in conclusione tra un uomo e una donna esistono delle differenze esteriormente ma il cuore è lo stesso ok in seconda battuta voglio portarvi l'esempio di un'altra persona sempre qui stiamo parlando sempre della tradizione tibetana un'altra un'altra grande insegnante che si chiama Tulzrin a Lione e qui trovate il testo di riferimento donne di saggezza si intitola Tulzrin a Lione è americana è diventata monaca nel 1970 ma ha smesso l'abito quattro anni dopo per sposarsi e avere dei figli la rappresenta un esempio importante per tutte le donne che vogliono intraprendere il cammino verso l'illuminazione ma come laiche secondo Tulzrin bisogna chiedersi in cosa consistono le realizzazioni spirituali l'istinto materno è identico all'impulso che spinge all'amore e alla abnegazione le realizzazioni di cui parlano gli uomini sono eventi a volte astratti e lontani l'impulso materno alla generosità è invece molto concreto e altro non è che distacco la posizione di madre e di laico offre una comprensione della condizione umana che non si ha quando si prendono i voti quando si diventa monaca lei dice Tulzrin a Lione come madre non mi sono mai fatta illusioni su me stessa sceglievo come fallire non se fallire o meno credo che le donne possano raggiungere l'illuminazione anche tra le pareti domestiche esiste ad esempio un piccolo grande esercizio detto il mezzo sorriso in cui si sollevano leggermente gli angoli della bocca e si resta in posizione per tre respiri se lo eseguo sei o più volte al giorno per tre giorni riscontro un influsso sorprendente sul corpo e sulla mente e lo posso fare in qualsiasi momento in qualsiasi momento morto quando non ho nulla da fare ci sono moltissime cose che si possono fare in casa si può eseguire l'esercizio per lo sviluppo della pazienza o quello di utilizzare gli ostacoli come fattori di apprendimento ho provato a restare al capezzale di persone morenti e ho imparato molto sulla transitorietà delle cose e che il modo di morire corrisponde al modo in cui si è vissuto le questioni aperte della nostra esistenza torneranno a galla mentre moriamo per riuscire a meditare studiare e insegnare oltre ad essere disponibili nei confronti del marito e dei miei figli ho rinunciato quasi completamente a uscire in effetti sono diventata una gallina mi alzo alle 5 di mattina e spesso alle 7 di sera sono già a dormire per me è relativamente facile perché i miei figli sono ormai adulti e anche mio marito pratica il damma nelle prime ore del mattino tutte per me fanno una differenza enorme medito seduta e camminando osservo precetti come quello di non mentire di non prendere nulla che non mi sia stato dato spontaneamente non uccidere né fare del male a nessun essere vivente dovremmo guardarci intorno e capire che cosa siamo chiamati a fare nella vita presente sarebbe ridicolo diventare monaci o eremiti solo per via di un ideale confuso quando invece impareremmo molto di più nell'ambito di una relazione intima o di un nucleo familiare nella maternità si sviluppano una miriade di qualità che sarebbe impossibile acquisire con la vita monastica facendo la madre una donna non si preclude necessariamente il cammino spirituale anzi esistono diversi approcci e diverse vie non è realistica invece l'idea di essere una donna in carriera o una madre e di riuscire contemporaneamente a svolgere lo stesso tipo di pratiche pensate per gli eremiti se una donna ha scelto di avere dei figli dovrebbe elaborare una pratica che faccia della famiglia il sentiero del damma altrimenti finirà col sentirsi molto frustrata in realtà la pratica di essere nel momento presente di aprire il cuore può essere esercitata ovunque ci troviamo se riusciamo a portare la nostra consapevolezza nella vita quotidiana nei rapporti umani sul posto di lavoro e in famiglia il luogo in cui ci troviamo non fa più nessuna differenza queste sono le due diciamo esperienze di queste due donne contemporanee vediamo un pochino all'epoca del Buddha la religione che diciamo che si è presentato il Buddha era quello dell'induismo che era una religione essenzialmente patriarcale quindi all'epoca del Buddha Sakyamuni la condizione delle donne nella società indiana era di assoluta inferiorità e Buddha per quanto illuminato non fu da meno nel considerare la donna sia pure un essere in via di evoluzione ma che per completare il suo percorso avrebbe dovuto reincarnarsi come uomo si dice comunque che durante la sua vita solo in seguito alle insistenze di Ananda che era diciamo il suo braccio destro era anche suo cugino concesse la creazione di un sanga femminile una comunità di donne monache e soltanto in seguito alle richieste della zia che l'aveva allevato come un figlio e che gli aveva chiesto di diventare monaca consentì che nei monasteri ci potessero essere anche le monache ma nella gerarchia monastica le donne si trovano al gradino più basso sono tenuti a rispettare più voti e non viene loro concessa una condizione di parità con i monaci questo nasce dal fatto che quegli uomini che le hanno sempre giudicate inferiori fino a quando erano laici anche quando poi sono diventati monaci non erano disposti a cambiare la loro idea inoltre in oriente i maestri non sono sempre disposti a dare insegnamenti alle donne oppure le escludono dagli insegnamenti più complessi di alto livello diciamo tornando sempre alla tradizione tibetana per quanto riguarda appunto il buddismo tibetano anche questo segue la tradizione ma all'interno del buddismo tibetano c'è una figura femminile che viene molto venerata penso che ne abbiate sentito parlare che è Tara e di Tara ne parleremo in un altro discorso che farò in una di queste sere della quale si dice che dopo aver chiesto conferma del fatto di dover rinascere uomo per arrivare all'illuminazione ella replicò in questo modo in questa vostra affermazione non c'è saggezza a livello di verità assoluta non esiste rinascita perché non c'è in realtà alcun individuo autoesistente che possa rinascere e anche queste definizioni e concetti dualistici di maschio e femmina sono erronei detto ciò formulò un ulteriore voto in verità molti sono coloro che desiderano l'illuminazione puntando sulla rinascita come uomini ed in passato ci sono stati molti Buddha che divennero tali sotto forma di uomo mentre nessuno lo fu finora sotto forma di donna e nessuno operò per il bene degli esseri senzienti sotto un aspetto femminile per cui prendo l'impegno di diventare io stessa un Buddha dall'aspetto femminile senza sosta lavorerò come donna per il beneficio di tutti gli esseri senzienti fino alla fine del samsara samsara lo sapete è il cerchio di continuo questa interminabile ruota che gira di nascita vecchiaia malattia morte nascita nascita vecchiaia malattia morte eccetera eccetera guardo ogni tanto non è tutto vi risparmio un po' di cose vi state addormentando voglio invece portare adesso l'esempio invece della tradizione teravada quella che appunto segue il centro piano dei ciliegi e vi riporto un articolo di un di un monaco si chiama Biccu Cintita di Smore tra l'altro ha scritto un libro molto interessante che vi consiglio di leggerlo che si intitola Una cultura del risveglio ed è un libro che parla proprio di tutte le varie tradizioni del buddismo dalla nascita del Buddha fino ai giorni nostri e fa proprio un excursus molto interessante allora in questo articolo lui dice che il buddismo è vastamente noto nel mondo come una religione di pace e gentilezza e meno noto come religione di uguaglianza di genere e in effetti a molti buddhisti nel mondo viene insegnato che le donne a causa delle loro caratteristiche e disposizioni karmiche sono incapaci di risvegliarsi o di diventare dei Buddha almeno senza prima rinascere come uomo per di più nella storia dell'Asia relativamente poche donne sono state ben volute come insegnanti yogi o intellettuali i grandi monaci studiosi indiani erano monaci maschi e le linee di ordinazione e trasmissione tracciate dello stremo oriente elencano solo uomini uno dopo l'altro la tradizione teravada è riuscita a perdere completamente il suo ordine di monache pienamente ordinate tra parentesi sono mille anni che non esiste più l'ordine mille anni non è poco e quella tibetana non ne ha mai avuto uno lasciando in gran parte dell'Asia un sangha fortemente asimmetrico e pochissime opportunità per le donne di ricevere il supporto e il rispetto che alimentano le aspirazioni più elevate nel sangha buddista oltretutto lo stesso Buddha è stato comunemente implicato in questo pregiudizio per esempio si dice che sebbene abbia creato un duplice sangha di monaci e monache lo abbia fatto con riluttanza e sembra aver creato un certo grado di dipendenza del secondo ordine cioè quello delle monache verso il primo tuttavia che il Buddha covasse il più piccolo barlume di ostilità verso le donne è in contrasto con il suo completo risveglio che implica che fosse completamente puro nel pensiero gentile ben disposto all'accesso del tutto privo di corruzioni o preconcetti di sorta nei confronti di qualunque essere vivente è vero che l'autenticità di molti passaggi attribuiti al Buddha nelle prime scritture a questo riguardo è stata messa in discussione dagli studiosi moderni e qui c'è da considerare appunto il periodo in cui nasce il Buddha quindi siamo nel pieno induismo c'erano i bramani che diciamo dirigevano un po' sia l'aspetto religioso che l'aspetto politico e la donna era proprio considerata zero e considerate che molti di questi personaggi di questi bramana sono poi diventati monaci a seguito del Buddha quindi si pensa che gli studiosi pensano che appunto l'influenza negativa non è da attribuirsi al Buddha ma a tutto questo contorno di persone che da una religione come appunto patriarcale come il bramanesimo si sia poi trasferita nel buddismo in effetti un'immagine che traspare a più riprese nei discorsi è quello di un Buddha che non nutriva altro che la più profonda gentilezza amorevole e rispetto per le donne in aperto contrasto con gli standard della società in cui visse il Buddha asserì in modo inequivocabile che le donne hanno lo stesso potenziale per il risveglio degli uomini dove dice le donne Ananda dopo essere avanzate nella pratica sono in grado di realizzare il frutto dell'ingresso nella corrente o il frutto del non ritorno o lo stato di arahat ci sono i vari livelli per arrivare all'illuminazione nei testi primitivi c'è un'affermazione ancora più chiara della completa irrilevanza del genere per la realizzazione questo passaggio racconta dell'incontro di Soma con Mara Mara sapete è considerato il demone ma rappresenta più che altro tutti i nostri difetti mentali gli inquinanti mentali che in modo caratteristico cerca di dissuaderla dal sentiero stavolta sostenendo che una donna non può ottenere il risveglio e allora Soma risponde in questo modo che importa l'essere donna laddove la mente è ben concentrata quando la conoscenza avanza stabile nel vedere esattamente nel dam chi pensasse sono una donna o sono un uomo o sono alcunché quello è Mara che lo indirizza in altre parti il Buddha e questo qui lo trovate è un sutta lo trovate nel Samyutta Nicaia il 5.2 è questa storia di Soma altrove il Buddha attesta il gran numero di discepoli e donne pervenute al risveglio il Buddha creò un ordine di monache parallelo circa cinque anni dopo l'inizio dell'ordine dei monaci sebbene ci fosse un raro precedente in alcune scuole jainiste il jainismo era un'altra corrente all'epoca del Buddha un'altra religione la fondazione della saicca otamente stabilito ordine buddista di monache deve aver rappresentato una svolta radicale nelle opportunità religiose per un'opportunità religiosa per le donne e c'è un'affermazione chiara nel suo per quanto mitico incontro con Mara alla fine della vita sul fatto che la fondazione dell'ordine femminile fosse già nelle sue intenzioni fin dal tempo del suo risveglio l'ordinazione delle monache nel buddismo diede alle donne l'opportunità non solo di chiamarsi fuori da un sistema patriarcale spesso oppressivo ma anche di prendere parte a una cooperazione quasi egualitaria con i loro fratelli monaci nella triplice gemma quindi nei tre rifugi il che al tempo del buddha doveva essere un immenso onore ciò significò che il sangha nel quale tutti i buddhisti uomini e donne prendono rifugio consiste di monaci e monache deve essere stata anche una decisione coraggiosa per il buddha data la prassi della società indiana e le preoccupazioni pratiche in ordine alla protezione delle monache all'interno di un modo di vita difficile e pericoloso il buddha si occupò come un genitore avveduto di proteggere la vita delle monache dai pericoli di uno stile di vita ascetico e itinerante i pericoli fisici venivano da briganti e malviventi pericoli più lievi perché sembra appunto che c'era proprio un discorso di stupro nei riguardi delle donne pericoli più lievi per la pratica delle monache venivano dal tale che vedeva una splendida creatura di modesto abbigliamento con la testa rasata e di condotta dignitosa entrare nel villaggio ogni giorno per la questua se ne innamorava e poi con profusione di fascino e doni o passi sontuosi si impegnava a prevalere su alcuni dei voti più seccanti presi da lei pertanto il Buddha creò delle misure di protezione all'interno delle regole monastiche questo si chiama il patimokka per assicurare alle monache a dispetto della loro vulnerabilità le stesse opportunità sul sentiero della pratica di cui godevano gli uomini parimenti ci sono regole speciali per i monaci che sebbene vincolati al voto sono spesso soggetti alle stesse fiamme di desiderio per regolare le loro interazioni con le monache è chiaro il concetto quindi regole per le monache per essere protette da questo ambiente ma anche altrettante regole nei riguardi dei monaci affinché non cadessero in tentazione diciamo nei sud il Buddha elogiò espressamente i conseguimenti delle bicuni si trova nei sud almeno una monaca chiamata Dhammadin che insegna al posto del Buddha al che il Buddha commenta che avrebbe spiegato lo stesso argomento in esame nello stesso modo in cui l'aveva fatto lei il Terigata una sezione del Kuddaka Nikaia nei sud è una collezione di poesie composte da monache da poco risvegliate è considerato il solo testo canonico in tutte le religioni del mondo a dare un resoconto di prima mano delle esperienze spirituali delle donne in effetti la promozione della pratica delle donne da parte del Buddha e dei suoi primi discepoli sembra che sia stata di gran successo nel buddismo primitivo la testimonianza del re Ashoka l'imperatore del terzo secolo avanti Cristo di gran parte dell'India e grande esponente sostenitore del buddismo ci dà un'immagine eccezionale dello stato del buddismo in India in due secoli dopo il Buddha attraverso i suoi editti trasmessi tramite iscrizioni su pietra in questi più antichi testi scritti che si riferiscono al buddismo si nominano molti monaci e monache per i loro conseguimenti come insegnanti studiosi e fautori di buone opere compresa la figlia dello stesso re Ashoka la chiamata Sangamite che fondò il Sangha delle monache poi in Sri Lanka a colpire è la prominenza in queste iscrizioni delle monache che sembrano apparire con la stessa frequenza dei monaci e la prova del grande riguardo del re Ashoka per il Sangha delle monache per i risultati delle prime monache per la coltivazione compassionevole e avveduta del Buddha per le condizioni propizie alla pratica per le monache all'interno di un sistema culturalmente e generalmente sfavorevole nei confronti delle donne quindi per concludere il Buddha che emerge dai Sutta è un uomo di completa purezza di intenzioni sempre in cerca del benessere di tutti ma proprio tutti e incapace del minimo barlume di preconcetti e pensieri ostili finito le regole monastiche sono sempre state storicamente legate ai cambiamenti legati ai cambiamenti del clima alla geografia alla tecnologia e alla società il Sangha non sarebbe sopravvissuto se non fosse stato così a questo punto della storia è fondamentale che qualunque parvenza di diseguaglianza di genere simbolica o no sia rimossa da un buddismo che vive in una nostra cultura moderna nella nostra cultura moderna ci vorrà un po' di pazienza ma il necessario adattamento arriverà di certo io ho finito e ho finito un po' Grazie a tutti.